Mie pandine e benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo qua su Stumble Guys, Sofia che colore non dovrò toccare perché si prova a non toccare il colore Allora, il colore vuole toccare ma il mio colore preferito no! Quindi il rosa, devo stare attenta a non averlo nella skin oppure lo posso avere anche nella skin? Allora, devi avere la skin. Allora dobbiamo cambiare la skin perché guardo i diamanti nella corona rosa Non ho molte skin con rosa, ne ho poche poche E toccherai il rosa e nel prossimo video avrai una bella inidenza! No! Va bene dai Liceo, speriamo che non mi capi da Pivot Pash Ma non devo toccare manco le skin degli altri rosa? Sì! No! Ti piace questo cuorishino che ti faccio? Sì E tocchi Non c'è nessuno che ha la skin rosa No, cioè non posso toccare i bordi Vabbè dai possiamo Posso toccare i bordi Perché sennò tipo violacei Ho toccato il rosa Dovrei fare la penitenza! Ma tutto rosa mi capita oggi Vabbè, ormai lo posso toccare perché l'ho toccato una volta E nel prossimo video faremo la penitenza! Ormai lo posso toccare, tanto l'ho già toccato quindi la penitenza la devo fare Allora nel prossimo round quale non devo toccare? Non devi toccare tutti i colori No, è un... Cioè solo un colore puoi decidere che non posso toccare No, tutti i colori nel prossimo video è la tua penitenza Ma non c'è, allora non posso fare niente... Qualificata? Qualificata! Allora adesso che colore non posso toccare? Il colore preferito di papà! Chiediglielo a papà quello che soccano Grigio è? Grigio o azzurro? Facciamo grigio o azzurro? No, è azzurro! Va bene, ancora il mio Invece... Non c'è l'azzurro! No, c'è! No, dove lo vedi? No, è... Oh mamma mia, c'è uno con la skin azzurra! Non mi toccare il dinosaurino! Ti prego, è per una sfida! E anche il calciatore... No, vabbè, molti ce l'hanno un po' di... Non mi ha toccato il dino... No! Ok, lo scienziato il dinosaurino mi hanno superato quindi non mi hanno toccato Ehm... Va, ehm... E uno ha la skin blue, non lo dovrai toccare, la tochi... Ai... Dovrai fare un'altra penitezza! Opla, opp... No! Ha toccato la skin blue! No, non l'ho toccata! Cioè, ci sono vicino, ma non l'ho toccata! Questo è il verdignolo! Il verdignolo lo posso toccare! Sì, sì! È il blu che non devi toccare! Niente, eliminato! Che colore non devo toccare adesso? Dovrai fare una penitenza! Nel prossimo video, ma che colore non devo toccare adesso? Sì! Intanto devi cambiare! Tu, innando, mi devi dire che colore non devo toccare! Ehm... Veloce! Questo colore! Cioè? Allora... Il rosa di nuovo? Sì! No, dai, di nuovo lo stesso? No, tipo, che ne so, dimmi un altro colore! Ma non... Ora... Non... Ora... Ora non devi toccare il colore dei tuoi capelli! Quindi il marrone! La mia personagina ce li ha marroni grigi, ce li ha neri grigi! Perfetto, non tocco il marrone! Che poi sei sciocchina! Solo le skin sono marroni, ma non esistono mappe con il marrone! Sì, c'è Jungle Roll! Lost Temple! E ti toccherai! I capelli dovrei fare una perivenza! No, perché quello è solo sul gioco! E tocchi il... Per fortuna non c'è il marrone, perché in realtà ce ne sono tipo 3-4! Non dovrei toccare... Quelli con le skin marroni, oh mamma mia, sono tantissimi! Non devi toccare... Aiuto, devo scappare! Non devi toccare il... Giallo! No! Giallo! No, ormai hai deciso, il marrone! Non devo toccare chi ha le skin... Aiuto, lui c'ha i capelli marroni! Quello non lo dovrei toccare! Aiuto! L'hai toccato! No, quello era il grigio, Sofia! Non diventare daltonica! Scusa! No, perché mi fai arrabbiare se diventare daltonica... Da un momento all'alto! Per farmi perdere! Scappiamo, c'è uno con la skin completamente marrone dietro di me! L'hai toccato! No! L'hai toccato! Nel prossimo video dovrò... In questo video dovrò fare una penitente! No, ma nel prossimo video intanto e poi... L'ho toccato solo una volta! Quindi una penitente! L'hai toccato! No! Poi me lo faccio... Che bello! Che bello! Non l'hai toccato perché non c'era il marrone! C'erano le skin marrone! Marroni! Però... Che colore non devo toccare adesso? Intanto devi cambiare il suo personale! Non posso! E intanto non devi toccare il colore... Che bello! Che bello! Il colore del... Il... 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 E' viola No ma in ogni caso io non potevo cambiarmela la skin Quindi non vale la skin mia La mia skin non vale vale solo la skin degli altri Qua non c'è il viola Comunque sono diventata blu o gialla Blu Sono diventata blu quindi non ce l'ho viola E qui non c'è il viola E' un altro gioco E no e no Sofia siamo in un video Almeno nel video risparmameli Allora non devi toccare Il blu come le altre persone No Sofia senti non puoi cambiare il colore Sembra Ormai l'hai scelto Non mi interessa Sare sono piccola Non me ne frega niente Sto staccando il video E allora silenzio Non è che io devo scegliere solo un colore Certo uno solo ne devi scegliere Non lo devi cambiare Perché se tu scegli un colore che non c'è A me non mi interessa Anzi per me è meglio Perché? Perché così che io non ho il problema Dai Sara Sara Vedi Appena finiamo il video Lo vado a dire a mamma e papà Va bene Diggielo Tanto che mi puoi fare Perché ho seguito le regole della sfida Che mi possono fare mamma e papà Perché ho seguito le regole Mi devono mettere in punizione Mi devono mettere in punizione Diggielo E allora Grazie a tutti